Se una donna è mal vestita si nota l'abito, se è vestita impeccabilmente si nota la donna. La frase di Coco Chanel, ma oggi alla cura particolare e non solo dell'aspetto, tengono moltissimo anche gli uomini e quindi affidarsi ad una manager dell'immagine dovrebbe essere cosa normale e naturale. Una professione difficile perché occorre far conciliare l'esigenza della persona con i consigli che possono diventare ordini dell'esperta. Si tratta di molto di più di un semplice lavoro che ha come obiettivo finale lo fisicchi di un role, ovvero quale capo intossare, che tipo di cabigliatura portare, in quale momento e in quale luogo. Questa premessa per raccontare una bella serata vissuta nella terrazza dell'hotel centrale di Alcamo per il fashion party. Indossa anche tu un abito verde e raggiungici in terrazza. L'iniziativa è stata di Veronica Steele, ovvero Adele Lombardo, che si è avvalsa dal supporto della sua gemella Siamese, la sua più cara amica che è molto di più di una semplice collaboratrice. Antonella Canzoneri, vestita di foglie verdi naturali per un inno alla natura dal messaggio strettamente ecologista. E poi lei, Veronica Steele, con un braccio avvolto nell'Edele Arrampicante, metafora di un sogno da trasformare in professione e così mettere da parte codice e pandette. Il verde è stato il colore dominante. I numerosi partecipanti hanno portato addosso qualcosa di verde, in sintonia con la serata, che ha voluto anche lanciare un inno alla natura, alla speranza, alla salvaguardia dell'ambiente, martoriato da un inquinamento globale che ha fatto accelerare il numero dei clatachismi. Irma Docetti, così come il lento e inesorabile esigelo degli acciai. Veronica Steele, padrona di casa, assieme all'inseparabile Antonella, ha visitato le persone sedute attorno ad un tavolo. Con parole semplici ma efficaci, come una sorta di spotto, ha illustrato i suoi programmi, finalizzati alla valorizzazione dell'aspetto di uomini e donne, puntando soprattutto sulla ricchezza interiore della quale ognuno è portatore o portatrice, senza la quale non può emergere quella esteriore. Veronica Steele è capace di far scoprire la propria fisicità, consigliare su un aspetto ben curato, valorizzare il proprio guardarroba. Veronica Steele è manager del bello apparile, in ogni occasione, per chi si rivolge a lei per consigli.